Bene! Pronti? Siamo in diretta? Allora se facciamo l'incidente è super! Super, assolutamente! Ecco iniziamo subito! Bene! Si darò una multa? No! Oggi non ci sono! Bellissimo! Dimmi un po' com'è! E allora c'è il cambio, questa parte è uguale a quella prima, che era due anni fa, ma adesso vedrai dopo si arriva alla parte del rettilineo, che è bellissimo! Quante queste nuove curve? Ma è molto difficile, secondo me la partenza sarà rischiosa, adesso te la faccio vedere perché! Diciamo che siamo qui, qui si sale, qui c'è tutta la salita, e poi si arriva alla partenza, ma poi prima quasi mi sbaglio qui avanti! Beh, ottimo a saperlo! Perché non l'avevo mai fatto, qui si mettono le mani per la partenza, tutto in salita, che bellissimo! Poi questa parte qua, qui c'è, questa è la partenza, qui hai un salto, guarda! Vero! E poi qui, io non capivo dove andare, invece si deve andare a sinistra, ma guarda che piccolo questo corner, tutte le macchine insieme qui sarà... Sarà divertente, ci devi stare attenti! Sarà molto divertente, molto! Poi vai qui a sinistra, guarda che vista hai, fai questo, dai! Wow! Spettacolare la vista qui! Poi tutto qui è nuovo, l'asfalto? Sì! Questa parte è super, adoro questi piedi qua! Molto tecnico! Questa è la parte nuova che non c'era l'anno scorso, qui c'è una chicane molto bella, molto difficile, c'è un muro, bisogna fare attenzione, c'è un muro qua, poi vai qua a destra, e questo è bellissimo, questo lo chiamano la Derby Marchioni, Sì, qua si gira intorno all'Ubelisco! 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 E questo è l'ultimo corner! Wow! Ci siamo! Ci siamo, ci siamo! Ci siamo, ce l'abbiamo fatta! Adesso saresti anche pronto a correre, davvero? Eh sì! Sono pronto, allenato! Grazie! Bene, Zinaco, un piacere! Piacere per noi! Aspetta che adesso qualcuno mi dovrà tirar fuori perché siamo un po' incastrati! Help! Salve! Bene, ti approfitto! Ok! Grazie! Senza di te sarei persa! Ecco! Grazie! Aspettate che uscire fuori è molto complicato, ve lo devo dire! Ah! Ok! Ciao! Ok! Dove devo andare? Non lo so! Di qua! E forse a un certo punto dovrei anche interrompere la diretta, chi può sapere! Mi dovrò togliere il casco! Posso fare un selfie da lei? Facciamo un selfie durante la diretta! Durante la diretta! Perfetto! Grazie eh! Ottimo lavoro! Grazie! Ci proviamo! Ok! A questo punto io? Salve! Salve! Io sento le voci ormai! Eh! Come si spegne! Scusate! Fine! Allora vi saluto! Al momento la diretta è finita, le auto adesso escono dalla pista e ci si prepara per la gara! A tra poco! Io ultima!